amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la pallanuto vista da vicino torniamo ad occuparci di serie 2 maschile girone nord andiamo oggi in casa degli amici della comunotore cuaro per farlo c'è con noi il difensore della compagine lariana giacomo bertotto ciao giacomo bentornato è un piacere di averti in nostra compagnia ciao grazie a tutti giacomo io inizio la nostra chiacchierata dalla stringente attualità non è stato un bel sabato per la comunoto che nel match valevole per la non aggiornata perde nettamente all'ara vera contro il chiave di nuoto 10 a 3 il punteggio finale ti chiedo come avete smaltito la pesante sconfitta incassata sabato beh come hai detto tu è stata una partita che non è andata come c'era come ci aspettavamo l'abbiamo smaltita con tanta voglia di tornare a vincere tanta voglia la prossima partita giocheremo in casa tanta voglia di far bene soprattutto in casa e tanta voglia di lavorare di mettere a posto tutti gli aspetti del nostro gioco che che fanno migliorati e cercheremo appunto di migliorare mettere da parte questa sconfitta e cercare appunto di migliorare su questi aspetti certo una partita che io direi un po strana perché il punteggio lascerebbe presagire a una sonora ripassata invece c'è stato un primo tempo in sostanziale equilibrio correggimi tu se sbaglio 2 a 1 per i padroni di casa con il vostro portiere viola che ha alzato il muro però dopo questi otto minuti è come se la luce si fosse spenta ti chiedo come spieghi l'otto 2 dei successivi tre tempi che che riflessione avete fatto tra di voi beh siamo entrati in acqua molto concentrati e con un ritmo non molto buono abbiamo tenuto per un tempo un tempo e mezzo e poi abbiamo fatto degli errori abbastanza banali appunto di concentrazione che che poco a poco hanno portato a questo grande grande divario di punteggio questo è il problema principale oltre che un piccolo problema di dal punto di vista del ritmo del gioco abbiamo sofferto tanto il nuoto e anche questa è stata una causa diciamo che secondo me avete sofferto anche maniera significativa la differenza di stazza proprio in termini di chili perché forse dall'altro lato sono un po mettiamola tra virgolette un po più pesanti come media giocatore no certo loro hanno un'età media molto più alta rispetto alla nostra ma anche a livello fisico di chili penso che come stazza ne abbiano un po in più è molta molta noi siamo giovani e non troppo grossi diciamo loro invece erano molto molto più piazzati diciamo beh certo si è sentito si è sentita una partita si è sentita la qualità dei loro giocatori come gitto e lanzoni che arrivano da una stagione in serie a 2 in serie a 1 certo si è sentita cosa vi ha detto mister zimoniccia alla ripresa degli allenamenti immagino che qualche muro possa aver leggermente vibrato eh sì eh certo ci ha ci ha fatto eh abbiamo analizzato tutte le fasi del gioco tutti gli errori che abbiamo che abbiamo commesso e anche le cose che che abbiamo fatto bene eh c'è appunto tanta voglia di di lavorare di tornare di tornare a fare bene e di mettersi sotto per migliorare eh quello che non è andato a Chiavari e prendere anche quello di buono che che abbiamo fatto in Ligure immagino che la voglia di riscatto così come si percepisce dalle tue parole sia tangibile ti chiedo una considerazione generale su quello che il vostro percorso finora in questo momento la classifica vi colloca in una zona di limbo tra eh la distanza da colmare nei confronti del quarto posto che vale l'accesso ai playoff e il buon vantaggio sulla zona play out qual è il questo diciamo orizzonte in questa prospettiva qual è il target ideale della comunota dove deve guardare in alto o in basso beh noi il target di inizio stagione era quello di salvarsi beh di salvarsi eh poi ovvio puntiamo a salvarci a salvarci senza andare ai play out e certo pensare ai play off è un po' difficile però c'è ancora tanto da giocare c'è tanto da migliorare non non escludo niente ecco c'è tanta voglia di migliorare abbiamo possiamo abbiamo un buon margine di crescita quindi cercheremo di fare il meglio possibile come sempre e si riparte alla ricerca dell'immediato riscatto vi attende ora lo accennavi anche tu all'inizio l'importante sfida interna contro la rarinante sarenzano che tipo di partita ci aspettiamo credo che sarà una partita con un ritmo abbastanza alto è una squadra che nuota hanno molta qualità anche in attacco noi ovviamente ci concentriamo su sulle nostre sulle fasi del nostro gioco quindi lavoreremo tanto sulla difesa sulla sull'attacco sull'uomo in meno e da questi punti che partiremo lavoreremo tanto per cercare di di portare a casa una partita importante appunto come detto tu torneremo giochiamo in casa che non giochiamo in casa da da dicembre quindi c'è tanta voglia appunto di di rimettersi in gioco di fare bene e soprattutto in vista anche delle delle prossime partite che sono sfide sfide dirette con per esempio Padova Carrare e così via va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Giacomo Bertotto per averci fatto compagnia do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Giacomo grazie mille grazie ciao a tutti grazie mille 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 gra